Ciao a tutti ragazzi, io sono Alpio Zapparà e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi parlo dell'aggiornamento che è arrivato proprio oggi della versione 11.14.0. Iniziamo! Allora ragazzi, oggi ho ricevuto l'aggiornamento per il mio Nintendo 3DS della versione 11.14.0. Allora, infatti io ho aggiornato il firmware della console. Per andare, vi ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, se dovete fare un aggiornamento, la console deve essere connessa a internet. Perché si sa, senza internet, l'aggiornamento della console non va. Una volta all'op, per chi se fosse dimenticato come si fa l'aggiornamento della console, si va su Impostazioni, Impostazioni Generali, andare alla voce numero 5, e andare a selezionare aggiornamento, scorrere, scorrere per leggere tutta, per accettare le condizioni dell'aggiornamento e poi fare accetto e poi ok. A questo punto la console si collegherà a internet e scaricherà e installerà l'aggiornamento. Una volta fatto ciò, che l'aggiornamento è scaricato, per renderlo effettivo, così come succede su Windows, la console si riavvia e vi porta al menu home. Voi, se volete vedere le impostazioni, la versione della vostra console, andate su, nelle impostazioni delle console. e sopra, sotto il logo, a sinistra o a destra, ora non ricordo, ci sarà scritto l'acronimo di versione e poi la versione della console. Se provate di nuovo a fare la ricerca dell'aggiornamento, ripetendo la stessa procedura, la console vi dirà che nella console è già installato il software di sistema più recente. Bene ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto il finale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!